Noi abbiamo sostenuto nei nostri scritti che le indagini dovrebbero essere implementate, dovrebbero avere anche altri destinatari, come per esempio il commissario attuatore della fase emergenziale, che in quel momento storico era il dottor Arcuri, e il quale ha nominato a sua volta un soggetto attuatore al piano di riorganizzazione emergenziale della rete ospedaliera nella persona del direttore generale dell'ASREM, che non abbiamo avuto il piacere di averli presenti per sapere perché mai non hanno dato attuazione al piano emergenziale. Diciamo che il procuratore ha rilevato grossissime criticità, che poi sono state qualificate anche dai suoi consulenti, gravissime inadempienze, tant'è vero che nell'esaminare un reato di omissioni in atti d'ufficio ha detto sostanzialmente che questo reato non sarebbe concretizzabile perché tutti questi signori che hanno commesso gravissime inadempienze non si sarebbero rifiutati, ma semplicemente non sono stati in grado di fare quello che avrebbe dovuto fare per legge.